Come al solito un benvenuto sul nostro canale. Prima di immergerci in questa intrigante storia, ti ricordo di premere il tasto i sciviti e lasciare un bel mi piace per rimanere aggiornato con i nostri contenuti esclusivi. Ora è tempo di scoprire i dettagli di questa avvincente vicenda. Inizia l'avventura in Croazia, in un mondo in cui il ritmo frenetico sembra non avere mai fine. Ci sono momenti in cui, anche le stelle più luminose della scena, hanno bisogno di una meritata pausa. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, due nomi noti nel mondo dello spettacolo, hanno scelto la suggestiva Croazia come luogo di fuga per il loro relax. Immagina le acque cristalline, le spiagge dorate e le onde che cullano dolcemente la loro vacanza da sogno. Ecco che durante questo rifugio idilliaco, Clizia ha sorpreso i suoi fan con uno scatto sui social. Che ha scatenato un vero e proprio polverone. Ma cosa c'è in questa foto? Che ha catturato l'attenzione di tutti. Un dettaglio apparentemente innocuo, eppure intrigante, ha portato alla ribalta il mistero e la speculazione. L'indizio nell'immagine. Osservando attentamente l'immagine, occhi attenti hanno notato un particolare che ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Una piccola protuberanza che ha dato il via alle voci di una possibile gravidanza. La reazione dei fan è stata travolgente, e le congetture hanno iniziato a circolare sempre più intensamente. Una dolce attesa, o una semplice illusione ottica? La domanda ha iniziato a bruciare nelle menti dei follower. La verità è emersa. Con il dilagare delle speculazioni, Clizia ha ritenuto opportuno intervenire per porre fine a tali chiacchiere. Con franchezza e un pizzico di imbarazzo, la showgirl ha spiegato che la piccola pancetta che ha fatto sorgere tante domande non è affatto un segno di gravidanza. Sono umana e ho il ciclo, come tutte ha scherzosamente chiarito. Questo dettaglio è da attribuire a un normale rigonfiamento che può verificarsi durante questo periodo. In breve, l'arcano è stato risolto e la verità è venuta alla luce. Fumetto cosa pensare? Fumetto. E ora, amici e follower, la palla passa a voi. Credete che sia davvero così come spiegato da Clizia? O c'è ancora spazio per il mistero? Ogni dettaglio, ogni reazione conta in questa storia intrigante. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità e le sorprese che il nostro canale ha in serbo per voi. Non dimenticate di premere il tasto iscriviti per non perdere nemmeno un attimo di questa avvincente avventura e lasciare un mi piace se questo video vi ha affascinato. Vi aspettiamo per esplorare insieme il mondo delle storie affascinanti e dei dettagli nascosti. Alla prossima!